Beh? Io mi chiamo Merca. Io Antonio. Vogliamo procedere? Patrizia! Venga. Vieni a far compagnia a questo bel signorino. Scusa se tocco, eh? Mi sembra che andiamo bene. Spera un po'. Hai un profumo un po' forte. Che roba è? Ma perché non ti piace? E faccio lì, profumo degli hippie. Perché? Sei hippie, te? Chiudi bene la finestra e non accendere la luce. Sì, ma anche se c'è un po' di luce, scusa. Tanto per te non è lo stesso. Non mi piace in certi momenti essere guardato in faccia. Vuittà, prego! Mm. Scusi tanto, signorina. Di tutti i giorni miei, se nei miei giorni non ci sei più tu, che vuole questa musica stasera. Adesso le preparo un bel caffè. È un vero signore, ma perché non si è sposato? Chissà che bella pensione che ha. E tu? Guarda che mi hai pagato molto bene, se vuoi approfittare. No, grazie signora, grazie. Ma guarda, senza complimenti, sai. Come se avessi accettato, signora Mirka, grazie. Grazie a tutti.